Questa mattina il ROS ha concluso un'operazione di servizio in Sardegna arrestando quattro persone e denunciando altri 11 indagati per associazione finalizzata all'eversione del Stato Democratico e alla formazione di una compagine neofascista. Le accuse muovono da una lunga investigazione della sezione anticrimine di Cagliari, nelle quali si sono documentate assai di finanziamento di questo gruppo criminale e fortemente ideologizzato.